salve ragazzi questa sera lavoreremo sugli aggettivi determinativi voi avete già fatto degli esercizi adesso guardiamo qualcosa insieme guardiamo le varie categorie di aggettivi determinativi la prima categoria voi la conoscete già benissimo sono gli aggettivi possessivi servono ad indicare la persona a cui appartiene una cosa e hanno diverse forme che voi conoscete mio tuo suo vostro nostro loro proprio altrui la premessa è che mi sentirete ripetere nel corso del tempo è che gli aggettivi sono sempre accompagnati da un nome o meglio gli aggettivi si chiamano così perché si aggiungono a un nome quindi il nome il sostantivo deve essere sempre presente altrimenti li andiamo a confondere con i pronomi che è il prossimo argomento che affronteremo bene gli aggettivi possessivi sono piuttosto semplici vediamo gli aggettivi dimostrativi indicano la collocazione di una persona di un animale o di una cosa rispetto a chi parla a chi scrive oppure a chi ascolta chi legge quindi se io che parlo ho un oggetto vicino a me dirò che l'oggetto lo dichiarerò questo oggetto perché questo indica una cosa che mi è vicina è vicina a me che parlo se invece io indico qualcosa lontano e dirò quell'oggetto qualcosa che è lontano rispetto a me che parlo va bene quindi i principali sono questo e quello e poi ci sono anche gli identificativi sono stesso e medesimo poi abbiamo gli aggettivi indefiniti indicano un nome senza indicarne indicando in modo solo generico la qualità o la quantità quindi qualsiasi qualunque qualsivoglia oppure la quantità poco molto tanto qualcuno ciascuno nessuno alcuno tale qui in particolare dovete fare attenzione al fatto che ci sia sempre presente un sostantivo cioè un nome altrimenti li confondiamo con gli avverbi o con i pronomi va bene ragazzi è molto importante qui vi ho messo un'altra scheda presa dal vostro libro che indicano le quantità ce ne sono tanti io ve lo lasciate in modo che voi potete in un qualche modo andarle a vedere a ripassare gli aggettivi interrogativi si usano per porre una domanda oppure un dubbio quindi quali sport preferisci vedete c'è il punto interrogativo quanti sport hai praticato punto interrogativo qual è la differenza qui si parla di qualità che tipo di sport qui invece parliamo di quantità quanti sport che sport è il curling è uno sport sul ghiaccio quindi il che indica un'identità gli oggetti gli aggettivi interrogativi vengono usati nelle frasi interrogative sia dirette cioè quindi trovate il punto interrogativo oppure indirette introdotte quindi non so dimmi si trovano sempre prima del nome a cui si riferiscono e non sono mai preceduti dall'articolo quali sono che quale quanto quanta al plurale che rimane sempre invariabile vedete al plurale quali quindi è a due uscite e quanto invece quanti e quante è a più uscite vedete benissimo correggiamo alcuni esercizi che vi ho assegnato per oggi io li ho per questioni di tempo li ho semplificati quindi in questo caso io individuo gli aggettivi qualificativi sottolineandoli voi invece dovete inserirli nella tabella sacro maggiore lo abbiamo già visto tante volte con gli aggettivi qualificativi con i gradi di comparazione più lunga minimo ottimo identico migliore pessimo gli altri invece sono determinativi qui invece ne ho messi alcuni nella tabella proprio ognuno pensa al proprio vantaggio al vantaggio che gli appartiene altrui dimostrativi vi ricordate questo quello medesimo eccolo qua indefiniti parecchie poco nessuno ogni o qualsivoglia numerali questo è il numero in cifre romane sarebbe chissà se ve li ricordate 10 più 5 più 1 quindi 16 doppia o cinquantesimo quindi questo è un tipo numerale ordinale interrogativi quali e esclamativi quanto col punto esclamativo qui ho sottolineato la forma corretta degli aggettivi quindi quella scoperta alcun errore nessuna inchiesta questo perché femminile e questo è maschile quegli atleti quei laghi ciascun quesito qui invece dovevamo aggiungere l'aggettivo possessivo quindi ho regalato la mia collezione di automobilina carlo giorgia cura moltissimo le proprie unghie con tutti i loro risparmi hanno e anna e luca si sono comprati una casa a rodi giulio quando sono a casa tua mi sento trattato da te come un figlio questa volta abbiamo fatto male i nostri conti vi ringrazio per la vostra partecipazione come vedete gli aggettivi possessivi sono i più semplici quelli che voi utilizzate quotidianamente e non penso che avrete avuto difficoltà a fare questo esercizio questi invece erano un pochino più complessi perché erano di tipo esercizi di tipo conclusivo dell'argomento quindi sono un pochino più antipatici in ciascuna serie una parola non può essere un aggettivo determinativo allora in questo caso questo medesimo ogni delle delle non è un aggettivo determinativo perché questo è un articolo partitivo così come anche questo qui 4 25 entrambi milione milione è un sostantivo infatti diciamo un milione due milioni quindi è un sostantivo qui niente alcuni pochi meno stesso proprio se qui quando c'è se non usiamo altre parole nelle seguenti frasi evidenza gli aggettivi dimostrativi io ho scritto soltanto quelli gli altri determinativi quindi in questo problema ci sono vari elementi di difficoltà questo era l'aggettivo dimostrativo e vari era l'aggettivo indefinito saranno gli alunni stessi a raccontare il loro primo giorno di scuola sul blog dell'istituto loro è un aggettivo possessivo e questo invece un numerale Anna possiede molti braccialetti del medesimo tipo medesimo è un aggettivo dimostrativo molti invece è un aggettivo indefinito dal discorso di Giacomo emana una tale passione che vince ogni eventuale e perplessità ogni è indefinito in quell'armadio trovi almeno cinque camicie stirate cinque un numerale qual è il contenuto di questa lettera vedete c'è il punto interrogativo e quindi è interrogativo cancella l'aggettivo indefinito errato quindi non ne posso più di assecondare ogni tuo capriccio qualsiasi sbaglio andrea abbia commesso merita un'altra possibilità non ho ancora fatto alcuna verifica della mia ipotesi avrete tutto il nostro appoggio nella campagna elettorale ti auguro ogni bene quindi è abbastanza semplice bene ragazzi a presto perché fra poco faremo una verifica di questi aggettivi quindi mi raccomando studiate e ripassate grazie a presto